Nella vita di tutti i giorni ci sono persone che riescono a raggiungere gli obiettivi desiderati e invece ci sono altre persone che per un motivo o per un altro non ci riescono. Nella vita ci hanno insegnato che se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi ti devi impegnare e devi dare il massimo. Questo è vero, ma alcune volte non basta. Alcune volte hai dato il massimo, ti sei impegnato con tutto te stesso e comunque non sei dove vorresti essere. La differenza che fa la differenza tra chi raggiunge gli obiettivi e chi invece no sta nel fatto che i primi credono che non esistano fallimenti ma esistono solo risultati. Quindi se non arrivano all'obiettivo nei tempi stabiliti non viene considerato un fallimento bensì un risultato e da questo risultato imparano. Guardano ciò che è andato bene e ciò che c'è da migliorare. Infatti correggono la rotta per arrivare all'obiettivo e ci arrivano. Invece i secondi appena non raggiungono l'obiettivo nei tempi stabiliti pensano che hanno fallito, che hanno sbagliato tutto e non si mettono lì ad analizzare perché il risultato ottenuto è diverso da quello desiderato. Ricorda che la vita è un insieme di esperienze e ogni esperienza porta con sé una lezione. Nella vita non hai mai perso sé da ogni esperienza trae una lezione. Perdi quando non impari la lezione.